un'altra tecnica interessante quando lavoriamo con i LUT è quella di prendere la tonalità l'atmosfera di un'altra immagine che ci piace o che vediamo bene anche per la nostra immagine e qui possiamo tra virgolette recuperare un LUT un insieme di tonalità da salvare come LUT vi faccio vedere un esempio prendiamo questo portrait qui e aggiungo questo LUT e qui vedete abbiamo la possibilità di cliccare su deduci LUT e qui posso scegliere un'immagine che utilizzo per recuperare il LUT vi ricordate che avevamo questa immagine di quest'uomo con la barba rossa su questo sfondo piuttosto sul verde prendo questa immagine qui e poi mi richiede una seconda volta se è quella che voglio riscelgo questa immagine qui e guardate che tra un attimo cambia la tonalità avete visto che infatti qui c'è scritto LUT dedotto Affinity Photo ha dedotto il LUT da quell'immagine e dunque a questo punto se vado a vedere guardate il prima e il dopo ha recuperato questa tonalità sul verde dell'altra immagine e questo trovo che sia veramente interessante perché quando noi vediamo dei portrait sui quali abbiamo lavorato in precedenza e che ci piacciono e che vogliamo riprendere possiamo semplicemente utilizzare questa tecnica e dunque vedete è decisamente interessante l'unico avvertimento che devo dare che a volte se lavorate su un'immagine con delle gradazioni di sfumatura con questo sistema di dedurre da un'altra immagine il LUT a volte abbiamo qui questi passaggi di sfumatura con aloni brutti dunque qui bisogna stare un po' attenti non per tutte le immagini è adatto però come vedete in questo caso funziona assolutamente bene visto che ci siamo possiamo concludere l'elaborazione di questa immagine e aggiungo un secondo LUT qui possiamo scegliere un altro verde magari questo è verde opaco scuro vedete però ricupero su questo verde naturalmente la parte del viso abbasso un po' l'opacità e poi sempre con la funzione intervalli fusione ricupero qui le zone luminose vedete che non sta male in realtà vorrei recuperare anche qui i rossi perché con questo verde di base questi capelli rossi fanno un bellissimo contrasto e lo possiamo fare anche questo con opzioni di fusione perché noi oltre il master abbiamo i singoli canali di colore e dunque se seleziono il rosso qui il rosso riguarda vediamo un po' se sono le ombre posso recuperare abbastanza dalle ombre e un po' dai mezzi toni vediamo un po' vedete come cominciano a illuminarsi i rossi mentre invece magari le zone più scure le lascio il rosso allora forse reimposto forse la curva migliore è una curva che lavora solo sui mezzi toni come in questo caso vedete in effetti così già mi piace di più sul rosso e dunque l'ultimo aggiustamento che potremo ancora fare e aggiungere di nuovo un loot ancora magari questo verde opaco 3 che è molto scuro questa volta però con una maschera e che nasconda solo alla parte centrale dunque in questo caso possiamo usare o il pennello oppure una sfumatura radiale vediamo se funziona questa qui però la invertiamo e questo rendiamo tutto molto più scuro ok dunque creo questo effetto radiale vedete è qui sulla parte del viso e direi che l'effetto è decisamente molto bello guardate il nostro punto di partenza è un bel ritratto ma il risultato è decisamente più intrigante più affascinante con questa riduzione di toni più scuri con meno toni perché qui si riduce quasi tutto su color pelle rosso e verde scuro è un effetto molto interessante molto bello e ci siamo basati semplicemente su un loot dedotto da un'altra immagine su un loot che abbiamo già impostato in precedenza verde opaco e lo stesso loot questa volta lavorato con una maschera mentre qui abbiamo recuperato tramite intervalli fusioni i colori che ci servivano tre passaggi veloci e un risultato a parer mio molto molto bello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti